Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi ci sostegniate premendo il pulsante. Mi piace per questo video perché il canale sta affrontando alcuni problemi tecnici e YouTube non suggerisce più i nostri video alle persone, quindi abbiamo bisogno del vostro supporto per far conoscere questo video a più persone più di mille mi piace. Se, come vedi sulla mappa davanti a te, cadranno grandi quantità di pioggia nelle aree colorate della mappa davanti a te. Questo è durante il periodo tra domenica 23 giugno e fino al 26 giugno 2024. Poiché le previsioni indicano l'arrivo di una massa d'aria molto fredda sul nord Italia, questa massa d'aria molto fredda porterà con sé temporali molto forti che si diffonderanno rapidamente al centro e al nord Italia, con abbondanti quantità di pioggia che si avvicineranno o supereranno i 200 barriera millimetrica come tasso di accumulo, soprattutto nell'estremo nord. Come potete vedere nell'immagine davanti a voi, le zone colorate in rosso scuro saranno a rischio di forti inondazioni a causa delle grandi quantità di pioggia che cadranno su di esse, con il rischio che cadano chicchi di grandine con forti venti e condizioni meteorologiche molto avverse e quindi le zone interessate da maltempo e forti temporali a partire dal 23 e 24 giugno. Sono tutte Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e altri dettagli. Rimanete sintonizzati più tardi.